Siamo lieti di presentarti Uconnect Services, una nuova gamma di servizi creati per supportarti nella gestione quotidiana del tuo veicolo, ovunque ti trovi. Lo sai che con Uconnect Services e TomTom hai a disposizione le tecnologie di navigazione più avanzate direttamente a portata di mano. Il pacchetto My Navigation è incluso e dopo l'attivazione ti offre un'esperienza completa e sempre connessa sia sul sistema di infotainment del tuo veicolo, sia sull'app Fiat. Uno dei migliori esempi di questa esperienza è la funzione Send & Go, che ti permette di individuare un indirizzo o un punto di interesse sul tuo smartphone ed inviarlo al sistema di navigazione del tuo veicolo. Al volante della tua nuova Fiat 500 puoi contare sulla navigazione connessa e totalmente integrata di TomTom, che sarà il tuo partner di fiducia e ti suggerirà il miglior percorso, con informazioni sul traffico in tempo reale, avvisi di autovelox e aggiornamenti medio, che arrivano direttamente sul tuo sistema di infotainment. Grazie alla navigazione connessa è più facile trovare la giusta strada. La modalità di ricerca avanzata ti aiuta a personalizzare la ricerca di un punto di interesse selezionando l'intera mappa, un paese o una città, un punto lungo il tuo percorso oppure vicino alla destinazione o ancora utilizzando le coordinate di latitudine e longitudine. Quando arrivi a destinazione, con Trova parcheggio puoi trovare facilmente parcheggi, mostrandoti quello più vicino e la disponibilità. Se la tua destinazione finale si trova in una zona pedonale, dopo aver parcheggiato il veicolo, la funzione Last Mile Navigation invierà all'app Fiat le indicazioni per raggiungere a piedi l'indirizzo esatto. La funzione Mappa Autonomia Residua ti permette di visualizzare sullo schermo di navigazione e nella Fiat App quanto lontano puoi arrivare una volta che hai scelto la destinazione e ti avvisa se la carica della batteria non è sufficiente. E se la carica della batteria non è sufficiente per raggiungere la destinazione? Non preoccuparti, puoi trovare facilmente le stazioni di ricarica più vicine sul tuo sistema di navigazione e sull'app Fiat con informazioni dettagliate sul tipo di connettore e sulla disponibilità. Aggiorna le tue mappe senza pensieri. Con la tua nuova 500 non ti perderai mai, grazie all'aggiornamento automatico over the air delle mappe, incluso per tutta la durata del pacchetto My Navigation. Puoi anche registrarti sul portale web.maps.moper.eu per aggiornare le tue mappe.